Una vittoria non importante, una vittoria importantissima, tre punti fondamentali per il nostro cammino perché oggi c'erano tutti i progi posti per fare una partita brutta, una partita sporca perché andiamo da un 3-0 affrontavamo una squadra che non aveva niente da perdere, veniva qui sapendo che a Benevento poteva fare la partita e abbiamo fatto un primo tempo che eravamo sopra 2-0 per quanto poi poteva sembrare qualcosa di diverso ma eravamo sopra 2-0 e quindi nel secondo tempo poi spesso ci accontentiamo abbiamo avuto l'opportunità per chiudere la partita, abbiamo preso due pali, una traversa se non ricordo male per chiudere la partita e poi quando non le chiudi nei minuti finali può sempre succedere come ci è già capitato purtroppo l'episodio sfortunato e quindi una partita, ripeto, dove c'erano tutti i presupposti per sbagliare atteggiamento i ragazzi non hanno sbagliato, abbiamo sbagliato qualcosa dal punto di vista tecnico ma ripeto il primo tempo eravamo sopra con merito 2-0, nel secondo abbiamo gestito grandi presupposti per chiudere non siamo stati bravi e poi il calcio spesso ti condanna, non ti permette nulla e quindi abbiamo sofferto fino alla fine ma se poi portiamo a casa i tre punti sono anche contento di soffrire Sì, per l'episodio nel finale sì perché ha fatto un paio di interventi determinanti ma è un portiere forte, è un portiere, lo sappiamo, è un portiere in questa categoria c'entra poco e quindi quando poi capitano episodi così nella fine hai un portiere come il nostro ma non siamo fortunati, abbiamo un portiere forte quindi fa parte delle caratteristiche di questa squadra altino giocatori forti in altri ruoli, abbiamo tanti giocatori forti, tra questi il portiere e quindi non mi stupisco la prestazione del nostro numero uno Sì, parto da Berra, è chiaro che è un giocatore ristabilito che oggi l'idea a bocce ferme prima della partita di dargli qualche minuto perché comunque non pensavo Terranova facesse una prestazione di questo tipo per 90 minuti e quindi l'idea era di fare una staffetta con lui però è anche vero che poi Berra era diffidato e a quel punto metterlo in campo rischiando di perderlo poteva diventare un rischio eccessivo e quindi non ne abbiamo corso anche perché non vedevo tutta questa necessità di cambiare qualcosa in un reparto difensivo che stava tenendo molto bene nel reparto difensivo c'era Elka che è un giocatore che è vero a volte magari si prende qualche rischio di troppo con un po' troppa confidenza nell'uscita con la palla al piede però sta facendo prestazioni di alto livello è un giocatore nell'uno contro uno spesso determinante perché è vero a leve lunghe ma poi appena l'avversario lunga il passo è in grado di recuperare e quindi è un altro giocatore che sta facendo un campionato importantissimo un altro di quei giocatori che qui si erano visti poco e niente che erano di quelli praticamente pronti a partire con le valigi in mano e che oggi per bravura dei ragazzi sono punti fermi di questo benevento ma sì ma l'idea è poi come dico spesso di cercare di di mettere quanti più giocatori possibili nelle condizioni migliori secondo me questa squadra che era costruita per il 4-3 ha tante mezzali e ne ha tante aspettando di recuperare anche qualche giocatore è una possibilità che teniamo aperta cercando di non perdere la nostra identità e quindi anche quando facciamo il 3-5-2 poi proviamo a riproporre qualcosa che si avvicini a quel 3-4-2-1 che abbiamo fatto dall'inizio della stagione praticamente Pape Varto dal sistema di gioco, ripeto, è qualcosa di abbastanza fluido Nei ravinano di quei giocatori che credo, se ci fermiamo a ragionare su quale ruolo in cui viene valorizzato meglio, credo sia la mezzala ci abbiamo puntato all'inizio della stagione, ripeto, in quel famoso centrocampo a 3 ed è chiaro che poi anche quando fa la mezzala spesso si trova a giocare in invasione, diventa quasi un trequartista e quindi, ripeto, questa situazione dimostra come poi i numeri contano davvero poco dal punto di vista della disposizione in campo, contano poi le funzioni non tanto la disposizione numerica che dal mio punto di vista conta poco Per quanto riguarda Italia, il ragazzo sta facendo un campionato straordinario venerdì nell'ultimo allenamento, cercando di salvare un gol ha avuto uno scontro con Sorrentino, ha avuto la peggio sembrava un infortunio sul collaterale per fortuna è semplicemente una botta è chiaro che non si è allenato negli ultimi giorni, negli ultimi due giorni della settimana però è un giocatore al quale oggi faccio fatica a rinunciare Mi piace, come ho fatto oggi, generare i giocatori sulla corda mi piace cercare di lavorare anche su aspetti che non sono solamente quelli puramente tecnici ma anche cercare di valorizzare chi in questa partita aveva tanto da dare come ad esempio ha fatto Ferrante, si è fatto trovare pronto al di là del gol con una prestazione generosa mi è piaciuta la prestazione di Benedetti perché poi sono giocatori lo stesso Cubizza sono giocatori del quale oggi mi aspettavo una risposta dal punto di vista dell'orgoglio l'ho avuta e sono molto soddisfatto poi è chiaro che i giocatori che rientrano da un po' di partite dove non hanno avuto spazio non si può aspettare grandissima continuità all'interno della partita ma l'atteggiamento è stato straordinario sono contento per Samuele, per Sorrentino perché è un giocatore nella quale la società crede molto l'idea a quel punto quando la partita era sul 2-0 era di avere un attaccante di struttura per non abbassarci, per reggere qualche palla è un giocatore che quando è sceso in primavera nelle ultime partite ha fatto molto bene si allinea sempre bene, mi ha fatto piacere inserirlo per avere un altro giocatore di centimetri in campo penso abbia fatto una prestazione di alto livello non dimentichiamoci che è un ragazzo giovanissimo